Cambia il clima e cambia anche la montagna. Non solo nei ghiacciai che stanno sparendo, ma anche nei pericoli in cui possono incorrere, sempre di più, anche gli escursionisti occasionali. Ecco perché, per essere pronti a queste trasformazioni, l'Università dell'Insubria ha organizzato tra oggi e domani un congresso sulla medicina e il soccorso in montagna, con esperti europei e americani. Tra essi è intervenuto anche Matteo della Bordella, protagonista quest'anno di un incredibile soccorso sul Cerro Torre in Patagonia. Il numero uno degli alpinisti varesini ha ricordato l'importanza per gli scalatori di conoscere le basi del soccorso per poter agire in prima persona in caso di necessità.